Qualche balordo, ieri mattina, si è divertito a sparare con una pistola ad aria compressa, colpendo, diverse volte, con dei pallini di piombo un gattino. L'animale è in grave condizioni e difficilmente sopravviverà. La proprietaria del gatto, ha già sporto denuncia. . Farò tutto il possibile affinché questo bastardo non la passi liscia. È questo il post indignato del sindaco di Casal Nuovo, Massimo Pelliccia. . Il vergognoso episodio ha scatenato l'ira del web che non ha perso occasione per inveire contro l'archefice del folle gesto. . Resta sconosciuto il motivo. Intanto il gatto lotta tra la vita e la morte, troppo gravi i danni riportati da quello che si pensa possa essere una ragazzata. . .